Per finire siamo arrivati al dolce, il dolce è buonissimo, sicuramente una delizia, poi ce n'è una varietà incredibile, adesso mi sono servito da solo, ogni cosa c'è il cartellino, ti dice che cos'è, questo qui, questo qua è un souffle al cioccolato, poi qui c'è qualcos'altro fatto con la frutta, questo qua è un caramel, il budino al caramel, questo qua è fatto con una gelatina, fatta con la frutta, proprio è buonissimo. Ecco il reparto, quello lì è il reparto dolci, se si riesce, guarda qua, ci sono anche delle torte, però da qua non... non rende il dia, non si vede bene.